grande successo per la fiera delle trozelle che ritorna dopo otto anni di assenza l'evento organizzato dal circolo cittadino ricreativo si ispira proprio all'emblema dell'antica civiltà messapica la trozella di cui saranno presenti alcune riproduzioni era il caratteristico recipiente dalla forma di anfora dal corpo panciuto costituita da quattro rotelle le trozze appunto da cui deriva il nome della trozella disposte all'estremità dei manici utilizzato dalle antiche popolazioni salentine per il trasporto dell'acqua la trozella è il tipico vaso della messapica ma possiamo definirla anche il tipico vaso della condizione femminile messapica perché effettivamente si trovava sempre o quasi esclusivamente nelle tombe femminili messapica quindi risalenti al terzo quarto quinto secolo avanti cristo in pratica e torna naturalmente ricche di corredi funerari perché già nell'antichità ancora nell'antichità si credeva che bisognava metterci tutto quello che poteva servire anche nell'aldilà quindi in base all'accetto sociale i corredi funerari erano più o meno ricchi di oggetti di oggetti che ancora oggi possiamo ammirare nel museo nelle tombe appena scoperte e come sta torsella qui praticamente non è che contenesse tant'acqua quindi non è un vaso che sarà stato utilizzato in maniera pratica dalle donne messapiche ma era un vaso che sicuramente era messo all'interno della tomba stessa femminile giusto così per onorare il ricordo delle faccende di quello che era praticamente il vaso che la donna in vita aveva usato quotidianamente per poter attingere l'acqua delle poste per poterla poi portare a casa e svolge tutte le mansioni diciamo domestiche sia lavare i panni sia cucinare con l'acqua sempre attinta dalle cisterne quindi le carrucole oggigiorno chiamate carrucole al termine italiano praticamente nel dialetto prendono il nome ancora oggi di trozzola o trozza quindi termine trozzella è dato a questo tipo di vaso ornato decorato con queste forme di ruotelline sia nella parte alta delle anze sia nella parte bassa la festa della trozzella è un evento legato alla storia della tradizione di vaste la trozzella l'abbiamo vista nel museo un elemento iconografico che rappresenta la civiltà messapica e poggiardo e messapia e quindi la iniziativa di questa sera si sposa benissimo con la tradizione la storia e guarda al futuro la serata si è svolta in piazza dante a vaste frazione di poggiardo provincia di lecce nel sottosuolo sono presenti ancora i resti del tempio dedicato alla dea demetra che era il fulcro dell'antica città messapica di baxta la fiera delle trozzelle era stata ideata dal prologo proprio per richiamare l'attenzione verso la storia delle popolazioni che un tempo abitavano la penisola salentina l'evento è stato arricchito da stand gastronomici artigianali e dalla presenza sul palco del cantastorie menestrello p40 e dal famoso gruppo di musica popolare alla bua di musica popolare alla bua Grazie a tutti. Grazie a tutti.